Le scenografie barocche dei carri di Santa Lucia, la musica popolare del Mediterraneo, le mostre d'arte, lo street food e i fuochi d'artificio. Sono questi i tratti distintivi della prima edizione del Mecane Festival, in programma a bel passo dal 4 al 7 agosto 2022. L'evento si svolgerà in concomitanza della 79esima edizione della festa del patrocinio di Santa Lucia, patrona della cittadina, che dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, torna in presenza. Le manifestazioni, organizzate dalla Fondazione Carri di Santa Lucia, sono patrocinate dall'Assessorato regionale al turismo e spettacolo della regione siciliana, dalla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e dal Comune di Belpasso. Un'occasione per Belpasso, ma direi per tutto il territorio. In occasione dell'apertura dei carri, che verranno dal 4 al 7 agosto, certamente l'Assessorato allo sport, turismo e spettacolo, quindi nella persona dell'Assessore Maglio Messina, ha ritenuto opportuno dare un fortissimo contributo, dato un bonus di circa 10.000 euro e certamente la Fondazione riuscirà a fare del meglio per portare Belpasso sulle prime pagine dei giornali. Le sontuose macchine sceniche, realizzate in occasione della Festa di Santa Lucia di dicembre, vengono quindi riproposte nuovamente anche in estate. Da tradizione, infatti, la prima domenica di agosto, Belpasso ricorda il 6 agosto del 1943, quando un carro armato tedesco si inceppò all'ingresso del paese, alla Quarta Traversa, permettendo agli inglesi di entrare senza scontri a fuoco e spargimenti di sangue. Novità dell'edizione 2022 della Festa del Patrocino di Santa Lucia è il legame che si è voluto creare con le tradizioni popolari del Sud Italia. Questa nostra ricorrenza è articolata in più serate, quindi dal 4 al 7 agosto ci sarà uno spettacolo nello spettacolo, perché oltre alle spaccate, l'apertura dei carri di Santa Lucia, quest'anno abbiamo scelto come ripartenza di abbinare un festival, quindi ci saranno i suoni, le musiche, i balli popolari del Sud Italia. Nel corso di una di queste serate sarà presente il maestro Eugenio Bennato e anche un gruppo di danza salentina, quelli che per intenderci caratterizzano la Taranta, la pizzica del Salento, quindi per questo è un motivo di orgoglio. porteranno nuova linfa, nuovo vigore sia alla manifestazione dei carri, ma soprattutto porteranno un vero entusiasmo, un sano entusiasmo, che è quello che ci è mancato in questi ultimi due anni. Ricchissimo il programma di eventi della prima edizione del Mecane Festival. Il 4 agosto è prevista la spaccata del carro del quartiere Purgatorio e il concerto dei Casentuli con il coro Unica Vucci, mentre il 5 agosto sarà la volta dell'apertura del carro San Rocco e del concerto del cantautore Eugenio Bennato. Bel Passo, Catania, l'ombra dell'Etna, Mecane Festival con questi straordinari carri di Santa Lucia e io ci sarò e sicuramente io ho scritto un brano sulla bellezza del nome Lucia che andrò a eseguire quella sera e a dedicarlo al festival e poi altre cose che riguardano i miei soliti temi che sono la musica popolare del sud, il Mediterraneo, l'accoglienza. Le manifestazioni giorno 6 proseguiranno con la spaccata del quartiere Borrello, la proiezione sul maxischerma in piazza Duomo del documentario quel 6 agosto del 1943 a cura della Cineteca Vitaliti e poi i suoni e i balli della pizzica Salentina con gli artisti della Taranta. Momento conclusivo di tutta la manifestazione sarà domenica 7 agosto la spaccata del carro del quartiere Matrice. Quest'anno nasce questa, speriamo, nuova tradizione su impulso appunto della fondazione dei carri, questo Mecane Festival. Saranno quattro giorni importanti dove si apriranno i carri, dove ci sarà a contorno il patrocino di Santa Lucia, tante iniziative a contorno anche il motoro ad uno e queste belle serate di musica e ballo. Questa è una cosa che noi abbiamo patrocinato con gioia e speriamo che sia appunto l'inizio di una nuova tradizione belpassese. Grazie a tutti.